Ancora disagi per quanto concerne il sistema informatico delle prenotazioni del sistema sanitario dell'Asle di Teramo. Il blackout registrato si sta giovedì scorso permane ancora oggi. Un danno più serio del previsto dovuto alla rottura dei tre dischi che contenevano l'intero sistema dati aziendale. E' continuato senza sosta anche nel weekend il lavoro dei tecnici di diverse ditte esterne di mezza Italia per cercare di far ripartire l'hardware. I problemi più grandi si stanno registrando per gli utenti al CUP e al laboratorio analisi dove le stesse sono bloccate se non urgenti. Ieri sera abbiamo fatto l'ultimo comunicato stampa. Noi abbiamo detto che la situazione persiste. Ci stiamo lavorando in tutti i modi per cercare di risolvere la problematica con i nostri tecnici, con tecnici di testerne, anche con esperti di livello nazionale che conoscono il sistema Oracle e purtroppo il problema persiste. Noi adesso io come direttore amministrativa ho chiesto delle delucidazioni in merito agli uffici preposti e speriamo che anche in soluzioni alternative in tempi brevi riusciamo a ripartire. L'AS deve andare avanti, non è che poi interrompe le prestazioni sanitarie. Cerchiamo di evitare al minimo i disagi per l'utenza, anche per i meci, per la riprofessione, per tutti gli altri reparti coinvolti. Però noi dobbiamo andare avanti e ce la mettiamo tutte. Cerchiamo che in tempi brevi possiamo ripristinare il tutto. Quale è il messaggio che vuole dare agli utenti? Di scusarci, cercando di... Ci scusiamo, ci scusiamo e basta. Però ecco, loro hanno una ASL pronta a soddisfare le proprie esigenze di qualunque modo. Ci troviamo in questa condizione, ne dobbiamo uscire e basta. Ovviamente ci sarà un'indagine interna? Dopo quello sarà... Innanzitutto dobbiamo ripartire dopo le indagini, vedremo quello che bisogna fare, lo faremo in tutti i modi. Ecco. Grazie a tutti.